Una gigantesca massa di denaro dirottata da studi legali internazionali e banche verso paradisi fiscali per conto di leader politici, criminali, funzionari di intelligence e VIP dello sport e dello spettacolo. La denuncia arriva da milioni di documenti fatti trapelare sui media internazionali già battezzati Panama Paper. Fra i beneficiari internazionali di questi schemi ci sarebbero persone indicate come vicine al presidente russo Vladimir Putin, familiari del leader cinese Xi Jinping, nonché il pluri pallone d'oro Lionel Messi. Tra i nomi comparirebbero anche quelli di alcuni imprenditori italiani, compreso Luca Cordero di Montezemolo. Le autorità greche hanno dato il via ai primi rimpatri in Turchia dei migranti giunti nelle scorse settimane sulle isole di Lesbo e Chios. È infatti entrato in vigore a mezzanotte l'accordo siglato tra Ankara e l'Unione Europea per ridurre il flusso di immigrazione clandestina. Lunedì mattina decine di profughi sono stati scortati dagli agenti dell'Agenzia Europea di protezione delle frontiere Frontex a bordo di traghetti diretti a Dichilli nella Turchia occidentale. Sono circa 4.000 i migranti trattenuti sull'isola greca di Lesbo dall'entrata in vigore il 20 marzo dell'accordo tra Bruxelles e la Turchia. 8 ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state eseguite dai carabinieri di Rivoli nel Torinese nei confronti di altrettante persone ritenute membri di una banda responsabile di rapine, furti con spaccata, ricettazioni e spaccio di stupefacenti. L'indagine avviata nell'agosto del 2015 dopo una rapina a mano armata venuta a Grugliasco ha permesso di attribuire al gruppo di malviventi, tutti italiani, sei rapine ai danni di esercizi commerciali, tre spaccate in tabaccherie, oltre a varie truffe ed altre attività illecite. I colpi sarebbero stati realizzati con la complicità di alcuni nomadi minorenni la cui posizione al vaglio della Procura di Torino. Roberto Mancini ha amareggiato dopo la sconfitta per 2-1 a San Siro della sua Inter contro il Torino. Non abbiamo giocato con sufficienza ma paghiamo alcuni errori e forse un po' di stanchezza, dice il tecnico Nerazzurro nella conferenza stampa dopo la gara. Sugli obiettivi stagionali però l'allenatore dell'Inter non si rassegna. Quindi credo che i consultivi si fanno alla fine. Il nostro obiettivo era quello di arrivare terzi, in questo momento siamo ad otto punti e ci proveremo ancora, poi vedremo. Grazie a tutti.